Una maggioranza senza più numeri in Consiglio Comunale che litiga pubblicamente sulla spartizione delle postazioni di governo incapace di occuparsi dei reali problemi della città. Le accuse arrivano dai gruppi consigliari d'opposizione pochi giorni dopo la mancata approvazione del bilancio consolidato 2023. L'ennesima dimostrazione dicono dalle minoranze che Cannito e la sua coalizione non sono più in grado di rispettare il mandato elettorale. Ci sono problemi enormi, irrisolti in città a partire dal piano urbanistico generale, il piano delle coste, il piano urbano della mobilità sostenibile, le manutenzioni, insomma una serie di problemi che restano irrisolti però nel frattempo questa maggioranza pensa a litigare, a spartirsi poltrone e poltroncine ma per farne cosa non si sa perché nel frattempo senza i numeri in consiglio comunale ogni provvedimento è un provvedimento che nasce già monco della garanzia di poter produrre i suoi effetti amministrativi e politici. Sotto accusa delle opposizioni le recenti nomine in Barsa completamente politicizzate ed il rimpasto di giunta con cui il sindaco ha contentato le richieste di due consiglieri regionali eletti con il centrosinistra ma che oggi sostengono l'amministrazione comunale di centrodestra. Abbiamo dinanzi un fallimento totale di questa amministrazione, lo è nei fatti, lo è nei provvedimenti ma lo è anche nei comportamenti, nelle nomine stesse, cioè noi abbiamo potuto riscontrare in quest'ultimo rimpasto in giunta, riprendere nomi da giunte passate, gente che è uscita sbattendo la porta in contrasto, poi per chissà quali motivi ce li siamo ritrovati nuovamente in amministrazione. Questo stilicidio continuo è a discapito della città, è a discapito della cittadinanza che attende ben altre risposte, attende il governo e in questo momento non c'è. Con un'amministrazione così precaria e litigiosa non si può escludere un ritorno anticipato alle urne, dicono dal Partito Democratico, che si impegna alla ricostruzione del centrosinistra per affrontare la prossima campagna elettorale. Coalizione civica non si tira indietro a patto che nel nuovo progetto politico non convergano anche liste e partiti di centrodestra. Noi non abbiamo bisogno di ricostruire un alve, noi l'alveo ce lo abbiamo, è l'alveo del centrosinistra. Ci sono degni rappresentanti di quella che è l'attuale minoranza, ma che si candida a diventare maggioranza nella città. Questo non basta, non bastano le sigle, non bastano i partiti. Noi cercheremo di allargare il confronto e l'orizzonte anche rispetto a quella che è la società civile e i corpi intermedi, perché pensiamo che la politica da sola non possa cambiare questa città con tutte le difficoltà che caratterizzano questi anni di amministrazione. Sentiamo il dovere in questo momento di riannodare i fili, di immaginare una visione per la nostra città e di ripartire da quella visione, perché solo attraverso una visione della nostra città noi potremo costruire una nuova compagine che si ricandidi a governare Barletta.